La Notte Rosa rappresenta per Fano una grande occasione. E' entusiasta il sindaco di Fano Massimo Seri che considera l'evento un'opportunità per valorizzare le tante peculiarità cittadine. L'iniziativa in programma per il prossimo 3 luglio oggi è stata al centro dell'attenzione di un incontro con il sindaco di Rimini, l'assessore alla cultura della regione Emilia Romagna e i sindaci di Pesero, Gabice e Gradara. Durante la riunione sono state tracciate le basi per una più stretta collaborazione che possa puntare ad un progetto ambizioso. E' stato un incontro molto proficuo. Io stesso ho proposto di coinvolgere anche Marotta e Mondolfo perché siamo un tutt'uno per quello che riguarda anche il territorio balneare. Ma da lì siamo partiti anche ragionando su altre progettualità. Fano ad esempio ha molti punti in comune con Rimini. A Rimini finisce la Flaminia che passa per Fano. Fano e Rimini hanno avuto la presenza importante dei Malatesta. Ma non solo, si è ragionato anche su un lavoro progettuale che veda coinvolto tutto questo territorio, pensando e inserendoci anche sull'asse 4 dei fondi strutturali del Feser per pensare ad una proposta turistica ciclabile, in modo particolare per i paesi europei, del nord, offrendo dei percorsi che vanno da Rimini a Fano. L'offerta balneare secondo il primo cittadino non è più sufficiente. Da sola da attirare i turisti sempre in cerca di esperienze complete. Per la prima volta, detto Seri, ci sono tutti gli ingredienti per costruire insieme agli operatori fanesi, alla cittadinanza e ad altre realtà della costa, un prodotto in grado di rilanciare Fano e il settore turistico, grazie a proposte sia ludiche che culturali. Il messaggio che voglio lanciare è che Fano non deve essere chiusa al mondo esterno, ma deve aprirsi. Abbiamo solo da guadagnarci.